Questo video riguarda i migliori tre pennelli per fondotinta. Il vincitore della qualità è il Quemis Pennello per fondotinta. Il pratico pennello per fondotinta è facile da applicare e il manico a forma di petalo è progettato per essere applicato in modo uniforme, il trucco è delicato e versatile. Il pennello per il trucco è costituito da una spugnetta per il trucco integrale, può essere applicato colorante in breve tempo. Le setole del pennello per fondotinta sono molto morbide, spesse e dense con belle fibre fini. Spugna senza caduta di capelli, senza segni di pennello, senza assorbimento di polvere, produzione precisa. Questo strumento di bellezza può essere utilizzato per tutti i correttori, creme, farde e polveri sul viso. Il pennello per il viso è confezionato in una scatola, che non solo può impedire la caduta del pennello per fondotinta, ma anche ripararlo bene. Comodo da tenere, aspetto elegante, facile da usare e molto amichevole per il viso. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il ducare pennello per fondotinta. Pennello per fondotinta piatto angolato adatto per applicare una varietà di cosmetici, fondotinta liquido, creme BB, cipria, correttori, autoabbronzanti, illuminanti per il corpo, luccicanti. Fornisce una copertura senza striature ed ha l'aspetto naturale in un istante. Assemblato con morbidissimi capelli sintetici puri, questo pennello si mimetizza sotto l'oscurità degli occhi e nasconde scolorimento. I pennelli sono stati progettati e realizzati a mano dai nostri esperti del settore, cruelty free. Nessuna irritazione della pelle, sicuri per le pelli sensibili, prevengono le allergie. I nostri bellissimi set per il trucco realizzati con manici ergonomici in legno certificati FSC e ghiere in alluminio riciclato. Prova oggi tutti i nostri prodotti professionali per il trucco e la bellezza, dai pennelli per il trucco, agli strumenti per il trucco, alle spugne per il trucco. Il vincitore del premio è il Vixom pennello per fondotinta. Quando si tratta di applicare il fondotinta, Vixom pennello per fondotinta Flawless supera le vostre esigenze e aspettative. Il nostro pennello per fondotinta non ha nulla da invidiare ai polpastrelli e garantisce una finitura molto più uniforme, liscia e simile alla pelle, sia che si utilizzi un fondotinta liquido, in crema o in polvere. È il miglior pennello per fondotinta che ci sia. Fibra morbida, densa e bella. La punta del pelo è morbida e permette di applicare il fondotinta in modo sottile sulle imperfezioni sottili e sulla trama dei pori. Questo pennello è adatto a tutti i tipi di pelle. Con il suo aiuto si può avere un viso bellissimo. Ideale per i cosmetici in polvere, liquidi, in crema, fard, correttore e fondotinta. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.